Ieri, alla presenza di oltre 100 persone, è iniziato il tour nei quartieri di Batipaia da Belvedere. Tante sono le problematiche esposte dai cittadini, si legge nella nota. Questa mattina abbiamo protocollato all'attenzione del sindaco, del presidente del Consiglio, di tutti i consiglieri e della giunta comunale, il verbale, in cui dichiariamo che speriamo che nel più breve tempo possibile almeno si inizino a dare le risposte ormai attese da tempo. I cittadini sono stanchi e hanno bisogno di essere ascoltati e di ricevere risposte.